La passione civile è l'ingrediente principale per difendere il nostro ospedale. Questa è l'opinione del portavoce del Comitato Civico per la Sanità Ignazio Cucchiara nell'ambito dell'appello odierno rivolto al sindaco Fabio Termine. Per fare politica e svolgere un ruolo pubblico è assolutamente necessario che ci sia la passione civile. Non basta la spinta che viene dalla vanità di gestire il potere, ci vuole la passione civile che significa assumere delle iniziative nell'interesse degli altri, avere l'amore per la propria gente. Cucchiara poi commenta le dichiarazioni di Zappia sul fatto che Sciacca avrebbe perduto la dignità che aveva di azienda ospedaliera e che per questo la comunità si piange troppo addosso. Ma non è assolutamente vero, le cose hanno un loro linguaggio. Questa battuta riferita a coloro che hanno fatto esperienze negative e sono moltissime, suona come una vera e propria offesa. Quindi immagino che sia una battuta che è scappata da parte di chi capisco che è chiamato a svolgere un ruolo molto complicato e difficile ed ecco perché noi vogliamo che i sindaci del bacino di utenza dell'ospedale di Sciacca e di Ribera facciano la propria parte formalizzando precise richieste nell'esercizio del diritto di controllo politico. Una questione è quella dell'azienda ospedaliera che va recuperata perché secondo l'ex sindaco una organizzazione della sanità pubblica a livello provinciale ha dimostrato di non funzionare. Il passaggio più interessante tra virgolette dell'intervista di Zeppia è quando lui ammette che l'ospedale di Sciacca è ancora idea di primo livello solo sulla carta. L'assetto che si è voluto dare negli anni 90 rispondeva ad una esigenza ben precisa, quello di realizzare, creare, garantire in questo territorio una struttura che si inserisce nella rete degli ospedali, nella rete delle emergenze. Sciacca, azienda sanitaria, ha perduto nel tempo questo ruolo fondamentale entrando all'interno dell'ASPE e quindi turbando quasi un equilibrio che esisteva, tant'è che oggi ci si pone il problema. Ma non è forse vero che è un errore mantenere l'ospedale di Sciacca all'interno dell'ASPE di Agrigento. È opportuno che Sciacca non faccia più parte dell'ASPE di Agrigento e questo credo che sia uno dei temi per i quali i sindaci del bacino d'utenza di questi ospedali riuniti facciano valere e sentire la propria voce sulla linea delle scelte ragionevoli. Pensare, come sosteneva un vecchio commissario straordinario, che ci sia una struttura, un reparto di emodinamica, uno per ogni provincia, significa non avere capito qual è il ruolo degli ospedali e della sanità. Per l'Avvocato Cucchiara i primi cittadini devono esercitare il diritto di controllo. L'indirizzo politico nella sanità è spetta per legge al sindaco e il rappresentante del popolo che ha un contatto diretto con i cittadini. Per cui in maniera serena, ma certamente determinata al massimo, i nostri sindaci devono far valere la loro presenza, dare degli indirizzi ben precisi, così come la legge prevede per la conferenza dei sindaci. Sono i sindaci gli attori principali e allora noi sollecitiamo il sindaco di Sciacca e i sindaci dell'intero bacino di questi ospedali a svolgere il proprio ruolo, se necessario battendo in maniera decisa il pugno sul tavolo. Per Cucchiara infine la Regione deve correggere il suo orientamento che al momento vede un'attenzione considerata evidentemente esagerata nei confronti della sanità privata. L'aspetto negativo di questo fatto è che le persone con una capacità di spesa ridotta e soprattutto i poveri non avranno questa garanzia fondamentale che è il diritto alla salute e che caratterizza in maniera splendida la posizione dell'Italia rispetto a tanti altri paesi del mondo occidentale. Dottore Giordano, il centro dell'iniziativa che avete assunto nelle scorse ore è quella di tornare a responsabilizzare i sindaci, perché i sindaci non è vero che non hanno alcun potere nei confronti della gestione sanitaria. I sindaci hanno un potere che può essere interpretato o in senso riduttivo, minimalistico o in senso più reale. Se noi cerchiamo sempre i riferimenti legislativi che possono giustificare un intervento dei sindaci, allora troveremo poco perché c'è la conferenza dei sindaci che per la nostra esperienza il precedente sindaco di Agrigento sperimentò in un'occasione quando convocò il commissario Ficarra, i comuni che afferiscono o fanno parte dell'aspetto di Agrigento. In realtà, siccome i sindaci sono i referenti normali di tutte le emergenze che i cittadini non riescono a risolvere da soli, allora noi siamo convinti che bisognerebbe prendere atto di questo e far sì che i sindaci diventino dei protagonisti più diretti, più motivati nel seguire le vicende della sanità e non limitarsi soltanto a registrare le interviste che il commissario al direttore di turno rilascia, lasciando ai sindaci semplicemente un potere di lamentela come qualsiasi altro cittadino. Non è così, noi riteniamo che così come i sindaci sono i referenti, sono il riferimento, tutte le volte che una famiglia non trova un posto in ospedale, ha un'emergenza, ha un malato non necessariamente che deve andare in ospedale ma c'è un malato psichiatrico, c'è un anziano, debbono avere un ruolo anche nel momento in cui gli organi dell'ASP e gli organi regionali, gli organismi regionali predispongono gli atti di programmazione e tutti gli atti conseguenti alla programmazione dei servizi sanitari nel loro territorio. Ecco, c'è il discorso che sta venendo fuori nuovamente, questa corrispondenza tra la gestione sanitaria di un territorio e la corrispondenza con il territorio provinciale. Questo fatto, inutile nasconderlo, penalizza questa parte di territorio perché da Sciacca, da Grigento, addirittura a Lecate come i turni che vengono garantiti, è un'odissea. Per esempio, se invece si facesse un'intesa, un raggruppamento di nosocomi tra Sciacca e Castelvetrano, le cose prenderebbero una piega migliore. Lei pensa che questo sia un tema che possa essere all'ordine del giorno di una classe politica che per la verità è stata, come si suol dire, in tutte altre faccende affaccendate in questi anni? Allora, noi dobbiamo distinguere, secondo me, due piani. Uno è quello dell'organizzazione dei servizi, quindi l'amministrazione. L'altro è la qualità e la tipologia delle cure che sono necessarie, che bisogna implementare, che bisogna sviluppare in un territorio. In teoria, la possibilità di un budget di dimensione provinciale dovrebbe essere un vantaggio, nel senso che noi dovremmo avere più risorse da distribuire secondo criteri di appropriatezza delle cure e di efficienza, cioè di razionalità delle spese e delle modalità di utilizzo di questo budget. Nella realtà noi constatiamo che la sanità è diventata praticamente uno strumento terribile di organizzazione del consenso e solo in via accessoria un modo per assicurare cure utili e rapide, cioè cure efficaci e rapidamente, alle persone che ne hanno bisogno. Camminano secondo due piani diversi. Ecco perché emerge la nostalgia dell'azienda con tutto ciò che ne deriva, l'ipotesi di fare un'azienda, di scorporare gli ospedali, delle aspese, tutti questi ragionamenti non hanno nessuna ricaduta sui problemi urgenti che hanno le persone e dovrebbe rientrare in una programmazione che la classe politica che ci dirige e che negli ultimi lustre non ha dato grande prova di sé, dovrebbe dare e poi delegare agli amministratori periferici il compito di rendere effettive queste cure. Noi invece abbiamo assistito a un decadimento inesorabile e penoso della qualità e della quantità delle prestazioni e frutto di questa centralizzazione solo politica o prevalentemente politica che fa coincidere le aspe con il territorio delle province. Quindi noi abbiamo diffuso come una sorta di epidemia i peggiori vizi della politica in un settore in cui la politica dovrebbe solo entrare chiedendo permesso. In realtà noi assistiamo invece a uno strapotere della politica che decide quali servizi attivare, quali silenziare, che decide spostamenti di persone, non direttamente perché la politica non compare mai in queste scelte. costringe il povero direttore sanitario di turno o il commissario di turno a eseguire il loro desiderata per favorire un gruppo piuttosto che un altro, per reinventarsi servizi spesso molto discutibili, talvolta palesemente inutili, in zone in cui non possono avere nessuna efficacia e via discutendo. Il tema dell'ospedale di Ribera per esempio si basa sul fatto che c'è una zona lì, quella dell'interno, che avrebbe bisogno di afferire un punto di riferimento più vicino rispetto a quello di Sciacca, però di fatto chi ha bisogno viene sempre a Sciacca comunque. Allora questa è l'ennesima dimostrazione della grande distanza che c'è fra i bisogni di salute reali e le fantasie di politici o di loro ispiratori locali che spesso capiscono di sanità quanto io ne posso capire di astrofisica. Allora se io posso fare una battuta, se c'è un intervento radicale a tutela delle popolazioni che richiederebbe una mentalità illuminata, che i sindaci o i loro ispiratori o i loro esecutori potrebbero attuare in questo distretto e in tutta la provincia dell'Agrigento, ma comunque particolarmente in questo distretto è quello di mettere mano a una rete viaria in grado di consentire lo spostamento dei cittadini e quindi anche dei mezzi di soccorso 365 giorni l'anno. Quindi come investimento sanitario intervenire sulle vie di comunicazione? Certo, perché immaginare un pronto soccorso in un ospedale che tuttora sarebbe destinato a essere chiuso è semplicemente una presa in giro per chi ha problemi reali di salute e abbia bisogno di essere curato tempestivamente in ospedali attrezzati per questo nel minore tempo possibile e con la massima efficacia possibile. Invece non assistiamo a questi balletti di invenzioni di reparti improponibili in luoghi in cui non esistono le strutture di sopporto? Noi avremmo bisogno invece di queste strutture fantasme che servono solo a garantire carriere per ordinate a persone ben individuate avremmo bisogno per esempio del doppio degli psichiatri, del triplo degli psicologi, del doppio degli assistenti sociali perché c'è tutta un'area, c'è tutta un ambito del bisogno di salute sottaciuto, negato e che negli anni è stato depauperato e distrutto metodicamente. Adesso hanno deciso pure di distruggere l'assistenza ospedale, quindi se noi non capovolgiamo questo approccio e i referenti, noi ci rivolgiamo innanzitutto ai sindaci e poi ai politici regionali e nazionali se sono in grado di raccogliere questo invito, se noi non partiamo dai bisogni di salute e la smettiamo di promettere carriera a tavolino oppure di selezionare, oppure di distribuire, noi praticamente con questa moda che si è instaurata di mantenere rapporti destinati ad essere chiusi con medici che da diversi anni prestano la loro opera fuori dall'orario di servizio, a tariffa libero e professionale, è un'autentica truffa, fra l'altro che va palesemente contro il contratto della sanità. Non è banale che il commissario al minuto regionale abbia ammesso che Sciacca è ancora a Dea di primo livello soltanto sulla carta? Sappiamo tutti che era così, ma non è banale che un commissario lo ammetta? Alla buon'ora, vuol dire che il nostro destino è già stato sentenziato, lo sapevamo, l'avevamo sospettato fino all'inizio, ma mentre all'inizio quando il Comitato di Sanità è nato proprio per difendere il ruolo strategico di un ospedale per l'emergenza che si trova alla periferia occidentale della provincia di Agrigento e che gravita prevalentemente su Palermo, oppure sul versante di Castelvetrano, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso. Quindi anziché fare delle scelte chiare, la nostra popolazione è diventata una popolazione di anziani e di bambini ne nascono sempre meno. Quindi per decidere, per esempio, di accorpare due punti nascita minori e smetterla con questo come dire, e distribuire in efficienza, togliendo personale da ospedali dove i reparti dovrebbero o potrebbero funzionare in altri ospedali che non potranno mai garantire la continuità assistenziale in questo modo, se non gravando sul bilancio dell'ASP in maniera spropositata, noi continueremo a sprecare soldi e a agevolare e incentivare la fuga delle persone che hanno bisogni reali di salute verso le strutture private. Questo è il tema su cui lei più volte, posso dirlo da conoscitore, da tecnico appuntato, la verità alla fine è che il pubblico non è in grado di garantire un servizio e dunque lo stesso pubblico è costretto a rivolgersi al privato. Questo lo dico da quando... Si autocostringe più che costretto. Si autocostringe fino a un certo punto, di fatto sembra secondare una tendenza in atto e che potrà solo peggiorare dai segnali che arrivano dai vertici della regione, perché oltre alle convenzioni già esistenti con mega strutture del nord, San Raffaele, Rizzoli, Humanitas, Bambin Gesù eccetera eccetera, si preparano operazioni simili per far sì che ospedali destinate alla chiusura in qualche modo possono essere vivificate da questi salvatori che verrebbero dal nord o da altre regioni d'Italia. Un'ultima battuta, qui la risposta gliela devo chiedere perché il dirigente dell'ASP dice ma medici non ce ne sono, quindi io devo fare quello che posso con il personale che ho a disposizione. Qual è la sua riflessione su questa battuta? Se noi organizziamo i nostri servizi sanitari, secondo i criteri cui accennavo prima, mi chiedo quale medico, quale infermiere può venire o può decidere di venire in un ospedale o in un'ASP che viene gestita come la periferia della periferia della periferia dell'Italia. Un medico va, sceglie di andare o meno in un posto se ha un trattamento economico adeguato e se ha la possibilità di sviluppare la sua professionalità in maniera seria e non dovendo chiedere il permesso per avere un infermiero all'onorevole Tizio, al sindaco Y o al senatore Z. Allora finché noi non dimostreremo di sapere gestire i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie in maniera che diventino attrattivi per medici più o meno giovani che non si sentono proporre incarichi di tre mesi oppure che non si vengono messi a capo di reparti che sono reparti fantasma perché hanno sia un primario ma lavorano come un ambulatorio di un ospedale di periferia, noi continueremo a peggiorare il nostro status e continueremo a dire chiaramente a chi ha bisogno di cure adeguate che noi ce ne fottiamo semplicemente.